scopare in macchina scopare in macchina spesso è molto meglio cioè è molto più arrapante come no ragazzi se uno non ha mezza sega come te ha un corpulento come me devo prendermi un carro funebre per girarmi appunto tu hai un problema c'è gente che non ha problemi di questo tipo sai che il carro funebre è anche arrapante come idea una sanzione fino a 10.000 euro sesso è morte per chi non lo sappia la cosa fondamentale è questa questi signori qua ma cosa ride quella spiantata ma non è una spiantata ma la spiantata che va a scrocco in un albergo di Abano è una spiantata è una spiantata giù Abano mi avete rotto il cazzo